Non metti sotto a tutti ma tutti sotto al libanese Now, say my name Bella ragazzi, bentorni su Cane Granas mentre lui guarda i culi della gente che passa per le spiaggia Possiamo dirvi che siamo tornati con un nuovo video su GTA, boom, per terra Guardi, da te non ti faccio niente No, no, ti sei troppo finito Almeno fino a che andrì Stupro No, 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 no Ma che cazzo Ma è morta Mi spaccata la schiena, mi fanno capire che hai fatto No, ma sta a dormire, dai È morta No, vedi, sta a dormire Oh, la zia Oh, è morta È la polizia Perché non ha fatto niente Ma perché vuole l'elicottero? Non lo so Che macchina rubato, devi qualche senatore Ah, è la stessa macchina che rubassi tanto tempo fa quando stavamo a far figlio che due anni alla portata da qualche parte può fare una volta che seminavi i poliziotti Ipizziotti A ver, parliamo di vetri con la furcata della polizia, un brado anche questo No, vogliamo fare qualcos'altro Oggi vogliamo andare a fargli rapine Mi erano in banca Guardate, sai, guardate, vai addosso un'altra parte addosso no si stanno incorrendo cazzo vuoi in tutto questo c'è anche la polizia che mi sento la polizia è un po' abbastanza ungoloide mamma mia guardate che pilota oh 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 oddio come riprende la macchina incredibile vabbè la pina lo mette già che la polizia così fa massimo massimo la macchina beh sì tra il quickscope proprio oh 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 cazzo oh 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 attenzione livello di stato nel tuo stato mentale dammi i soldi dammi i soldi sei morto grazie molto divertente è stato vederlo morire è una cosa molto divertente oh quanti sono ah ma vaffanculo e ti credo abbiamo davanti una stazione polizia zeroes deutschen che fansireen questo ma non massimo sireno ciao ciao parello ciao oh dio 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 didantesì non l'texto la carina che carino se ci sono per il marzo scatricca si parte u davvero incredibile tu vai non ho la che parete è chiuso si di chi ingegno tutto su due ruote ooooh perciò cammini non si può 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 mamma mia il tramonto ragazzi in una strada umana pop up video del mino gervinio incredibile se non ho fatto ancora uguale al cazzo non ho le fame aliero senso de e e la città龍o o n cura dove guarda lo guarda lo guarda lo che testa purtroppo pubbliciare si vanno a sen non provo basta della teglia ma sopra c'è stato da un po' di che vedi questo tipo esci esci eccolo io sbriva che esci da quella parte ma che sei ritardato a me aria ciao ciao no regalo sopperti genco non so più di stato ma da vedete l'ora ma da vedete l'ora ma da vedete l'ora ma da vedete l'ora vai 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 avanti 105 e 7 mamma mia dico gallo anche hai presi se vedete concentrati se ne muove raggiungo ecco beccaio beccaio tranquilli ritirate ritirate non funziona questa cosa campo da basket vedi tutti va ma come cavolo beccaio grazie il proprio che è trovato la benda una band contiglio adegu scuolg dio contiglio maria della polizia maria 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 gu of ciò sono anche riuscito a sfanculare la poli la poli la pola pula bambine sta prelevante sta prelevando dai e non le mamma così è una cosa che a roma dai il pane se scattano con il letto no 0 la mandia 2 mila e poi di poco in fronte non sono decidi prima ok ci sto eccola aspetta vado eh comunque sta su quello che c'è davanti la prossima bu ciao ciao è arrivato da qua direttamente spara spara avversa la scena del mezzo ho fatto tradito mamma mia proprio come romanzo criminale proprio non messi soltanto a tutti ma tutti soltanto al libanese venite 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 questo è tipo il bufalo quando fa quella scena che guardi che è accanto fermi vai ricotta scappa scappa ci penso io dopo sti pezzi proprio alla romanzo criminale al prossimo episodio faremo soltanto romanzo criminale su GTA esattamente sarà questo cercheremo di fare un bel video quindi sarà improntato proprio su rape, droga, sesso, alcol veniteci ragazzi adesso è tutto bella ciao 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 ciao